Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea in cui una donna sta attraversando un periodo difficile a causa del tradimento del suo compagno. La sua vita prende una svolta quando si imbatte in un quadro del vittore detto il Guercino, un libro che ha la capacità di creare una connessione tra arte passata e presente e la ricerca di identità. È una storia che offre una prospettiva sulla forza dell'arte nel plasmare la vita delle persone e nello svelare i segreti del passato. La trama del libro Un segreto dal passato della scrittrice Maria Paola Melloni pubblicato dalla casa editrice Perziani è la seguente. Angelica ha sempre vissuto e vive tuttora nelle campagne a nord di Bologna in un'antica casa padronale non molto distante da cento. La donna sta attraversando un periodo buio della vita e il compagno Raffaele dopo anni insieme l'ha tradita e se n'è andato. Così un pomeriggio per alleggerire la propria angoscia Angelica si reca con un'amica alla Pinacoteca nazionale di Bologna. Qui si trova al cospetto della Madonna del passero di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, artista Centense del Seicento. Quel quadro Angelica lo conosce perfettamente perché da bambina l'ha visto tante volte nella camera da letto dei suoi bisnonni. Questo incontro ravvicinato con l'opera d'arte fa riemergere in lei ricordi d'infanzia e domande a cui vuole trovare risposta. Il quadro del museo e quello della camera dei bisnonni sono lo stesso dipinto? Come avrebbe fatto la sua famiglia ad appropriarsi di quella che sembra l'opera di un artista così importante e soprattutto chi era il Guercino? Durante le ricerche la nostra protagonista sarà aiutata da una vecchia prozia un po' sorda e borbera ma decisamente brillante che le fornirà alcuni tasselli fondamentali per fare luce su alcuni segreti del passato. Grazie a ciò Angelica capirà che la storia dell'artista e della sua famiglia sono intrecciate indissolubilmente nella figura di una sua misteriosa nonché omonima aba, nelle ricostruire tutta la vicenda che la porterà a conoscere la tragica storia d'amore tra l'Angelica del passato e il pittore, l'Angelica dei giorni nostri riuscirà forza a rimettere insieme anche i pezzi della sua storia e della propria vita. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla. Per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.